martedì 15 bentornati su cper tv oggi abbiamo tiger blood per aprire ovvero sia 3 round for time di 400 metri di corsa e 10 clean and jerk con 60 o 40 kg a seguire dopo un riposo di 5 minuti un 10 minuti emom nei minuti disperi 10 11 12 13 14 15 eccetera toast to bar mentre invece nei minuti pari faremo 15 oppure 12 calorie bike è tutto per oggi ci vediamo domani per un'altra classe su cper tv ciao